No, soltanto lo spirito di servizio. La mafia non è affatto invincibile, è un fatto umano e come tutti i fatti umani ha un inizio e avrà anche una fine. Piuttosto bisogna rendersi conto che è un fenomeno terribilmente serio e molto grave e che si può vincere non pretendendo l'eroismo dai nervi cittadini, ma impegnando in questa battaglia tutte le forze migliori. Ho mai avuto dei momenti di scoramento, magari dei dubbi, delle tentazioni di abbandonare questa lotta? No, mai. L'importante non è stabilire se uno ha paura o meno, è saper convivere con la propria paura, non farsi condizionare dalla stessa. Ecco, il coraggio è questo, altrimenti non è più coraggio e inconscienza. Dico ai responsabili, convertitevi, una volta verrà in giudizio di Dio.